Ben ritrovati da Piercarlo Fabi con questa edizione del Tg Plus, il Tg di approfondimento di Cusano Italia TV. I temi che affronteremo quest'oggi sono la campagna elettorale ma soprattutto un elemento della campagna elettorale di cui si parla insistentemente i vari leader politici si alternano nell'annunciare un eventuale ipotetico confronto televisivo, se ne parla tantissimo, noi cercheremo di capire se effettivamente ancora è così importante la cosiddetta tribuna elettorale come veniva detta un tempo. E poi ci occuperemo ancora del prezzo del gas perché gli aumenti continuano ormai quotidianamente, ormai a livello quotidiano. ConfCommercio ha rilasciato una nota particolarmente allarmante per quanto riguarda la condizione delle imprese e delle famiglie ma anche per quanto riguarda i posti di lavoro, cercheremo di capire meglio effettivamente che cosa questo comporterà e soprattutto come è possibile intervenire per fermare questa vera e propria crisi che rischia di trasformarsi in una tragedia nel prossimo autunno-inverno. Cominciamo però dal dibattito televisivo tra i leader politici, ne parliamo con Luigi Crespi, direttore di PSC Proger, a cui diamo il benvenuto qui su Cusano Italia TV. Ciao Luigi, buonasera. Buonasera a tutti, come va? Tutto bene? Tutto bene Luigi, sarebbe ancora meglio se effettivamente piuttosto che parlare del dibattito televisivo questi leader poi decidessero effettivamente di farlo perché si susseguono annunci, chi dice che l'altro sta scappando come ad esempio Luigi Di Maio e Matteo Salvini, chi invoca questo confronto tra tutti i leader politici, chi interviene dicendo il confronto deve essere effettivamente aperto a tutti perché si rende conto che magari è stato tagliato fuori. Sta diventando un gioco di accuse reciproche ma in realtà poi il nodo del contendere principale, cioè l'effettiva possibilità di questo confronto televisivo ancora non vede una possibilità di effettiva realizzazione. Diciamo che la parola chiave è ridicolo, ridicolo perché in un paese dove c'è una legge, uno dei pochi paesi al mondo dove c'è una legge che regola la pancondicio, che vieta gli spot pubblicitari, che evita l'advertising, che vieta i sondaggi, uno dei pochi paesi civili democratici che vieta i sondaggi, vieta non di farli i sondaggi ma di pubblicarli, cioè dice la gente è cretina e quindi non gli facciamo vedere i sondaggi perché dopo si fanno condizionare, non gli facciamo vedere la pubblicità perché la gente è cretina e si fa condizionare e via dicendo. Tutto questo fu fatto a suo tempo per fermare Berlusconi e Berlusconi non mi sembra che l'abbiamo fermata. E questa legge però c'è rimasta come eredità di un'epoca antica. Ora, l'assenza di regole o l'iperregolamento, o che è uguale al fine che era sempre il caos, crea questa situazione paradossale. Negli Stati Uniti questa cosa non esisterebbe perché dai tempi di Napoleon del duello Nixon-John P. Kennedy sanno quanto sia importante un duello televisivo e sia parte fondamentale del processo democratico, diritto dei cittadini di vedere a confronto i propri candidati. Questo è un fatto democratico, non attiene alla propaganda e il fatto che non ci siano delle regole consente da una parte la RAI di improvvisamente improvvisarsi come la quinta camera del nostro paese e stabilire chi ha diritto e no. Cosa che la RAI, che come sai è finanziata per il 70% dei soldi di tutti i cittadini, non può dire chi ha più diritto e chi ha meno diritto. I sondaggi non possono essere un metodo di misura per stabilire la rilevanza. Francamente la varietà delle scelte elettorali dei cittadini italiani è radicalmente cambiata in quinquennio per quinquennio. Io credo che la cosa migliore per rispettare il principio democratico di pari opportunità, che così sta a cuore a buona parte del nostro parlamento, tanto da farci una legge, sia opportuno che tutti abbiano, debbano confrontarsi con tutti con le modalità più interessanti che possano esserci. Non ci si può sottrarre a un confronto, mai. Ora, che lo facciano a quattro, che lo facciano a due, che lo facciano quattro per volta, due per volta eccetera eccetera, francamente è una cosa che attiene ai paninsesti, a chi costruisce i programmi. È una questione che riguarda la programmazione, poi decidono tu se ne vuoi due per volta o quattro per volta. Ma la cosa importante è che tutti si confrontano con tutti. Tutti coloro che si presentano, che hanno una coalizione, che hanno un leader o che hanno raccolto, tanto più quelli che hanno raccolto le firme, io mi domando per quale motivo Calenda è titolato per qualcuno e non lo è Paragone. Nulla mi avvicina a Paragone, nulla di nulla. Però Calenda ha diritto secondo Calenda, ma l'altro manco lo prendo in considerazione. Per quale motivo io scelgo la Meloni e non scelgo Saldini? Perché i sondaggi dicono che ha più voti. Mi in quella coalizione si è deciso che chi ha più voti sarà il capo del governo. Allora, se guardiamo le ultime elezioni, più voti ce li aveva Saldini. Se guardiamo le prossime elezioni non ci sono ancora. Allora qual è il parametro? I sondaggi. Bene, stabiliamo che ci sono sondaggi di Stato che stabiliscono che va la Meloni, oppure lo stabiliscono direttamente loro. Quindi devono trovare delle regole che favoriscano il confronto, senza il quale il dibattito è falsato, senza il quale sono solamente posizioni ageografiche che si confrontano a distanza. Luigi, secondo te questo problema di questa assenza di regole può essere dovuto al ritardo del nostro paese per quanto riguarda una cultura audiovisiva più in generale, proprio il nostro rapporto con la televisione e il modo in cui vengono visti gli spettatori televisivi. Tu prima hai parlato in tono sarcastico ovviamente dell'ignoranza degli spettatori che sono tutti interpretati come se fossero stupidi. C'è questo pregiudizio che purtroppo nel nostro paese non si riesce a scardinare? Beh, ti dicevo, l'ho accennato prima, lo ribadisco, il partito il PDS, il PD dopo, hanno innestato nelle fasi in cui hanno governato una serie di leggi bavaglio, secondo me, che sono state costruite per difendersi dallo strapotere di Berlusconi con Ligia, cosa che avrebbero potuto fare non con una legge bavaglio e liberticidia, ma avrebbero dovuto farlo con una legge per regolare il conflitto di interessi. Non avevano interesse a fare quello, hanno avuto interesse a restringere gli spazi di libertà. Questo limita enormemente l'accesso a nuove dimensioni, cosa che poi non ha funzionato fino a un certo punto, perché Grillo in 10 anni è arrivato al 35%, in un attimo è tornato a 10. Però, voglio dire, non si riesce a fermare un'onda, perché hanno pensato queste leggi alla fine degli anni 90, no, a metà degli anni 90, diciamo, e dopodiché sono state travolte dai sociali, travolte dalla comunicazione diretta, travolte dalle piazze. E quindi io credo che sia opportuno veramente, sulla base di una legge elettorale, che anche quella dovrebbe essere cambiata, perché io chiedo che la gente possa scegliere, ma se poi chi sceglie sono le segreterie dei partiti e noi non andiamo a eleggere dei deputati per scelta, ma eleggiamo dei nominati da loro, tu capisci che qui il ritorno ai processi democratici, alla scelta dei cittadini, è una cosa che sarà mortificata dagli interessi dei partiti, che si sono avvicendati e messi d'accordo per fare leggi che dovevano vantaggiare l'uno anziché l'altro. Questa è la realtà, credo che nessuno possa inficiare, vuol dire che sia solo un'opinione, anche se tale è. Decisamente no. Un flash, Luigi, tu hai citato i social, in un'epoca così determinata, anche e soprattutto da parte dei leader politici. Perché hanno ancora così tanta importanza i confronti televisivi? Un medium del secolo scorso, per capirci. Beh, è un medium del secolo scorso che fa ancora qualche migliore di telespettatori in fasce di età elettorali. Quindi la risposta è semplice, ma aggiungo di più che il clamore, la centralità, il brand che produce una prima serata su Rai 1 o su Conale 5 non la produrrà nessun blog, non la produce nessuna, nessuna blogger. Sono due modelli di comunicazione interna. Uno è massificata e generalista. Gli altri sono invece, anche se hanno milioni di follower, sono comunque mai massificati e mai generalisti. Perché facciamo l'esempio dell'ultima influencer che è entrata a gamba attesa in campagna elettorale? Giustamente la Ferragni. Beh, chi segue la Ferragni è perché ama la Ferragni, perché piacciono i suoi trucchi, piace quello che pensa. Cioè la sua personalità aggrega quelle persone. Ciò che invece va in televisione è generalista, cioè aggrega più il fatto che avviene che non intanto la rete, anche se in qualche modo le reti sono specializzate rispetto alla loro programmazione, ma rispetto invece a chi fa comunicazioni su web che la fa oggi rimando oppure la fa, diciamo, concentrata su sé. Questa è un po' la differenza per una campagna elettorale. Assolutamente, assolutamente sì. Magari, Luigi, io ti ringrazio per questo tuo intervento. Magari ti torniamo a disturbare quando effettivamente si svolgerà questo confronto televisivo per commentarlo insieme. Era un po' che non ci vedevamo e quindi mi ha fatto piacere incontrarvi e non perdiamoci di vista. Assolutamente no. Luigi Crespi, grazie mille. Buonasera. Luigi Crespi, appunto, ricordiamo direttore di PSC Proger. Cambiamo decisamente argomento, ma restiamo comunque in temi legati alla politica, perché fa parte della campagna elettorale il tema e il dibattito sul caro energia e sull'aumento ormai costante, ormai quotidiano del prezzo del gas, ma soprattutto sono tante le attese per quello che potrebbe ancora fare il governo di missionario guidato da Mario Draghi e quello che sarà chiamato a fare invece il governo che risulterà eletto dopo le elezioni del 25 settembre. Anche perché i dati che emergono continuano ad essere ogni giorno sempre più allarmanti. Nella giornata di oggi in particolar modo alcuni dati sono emersi da ConfCommercio. ConfCommercio sottolinea come la corsa dell'energia e un'inflazione prossima all'8%, per quasi l'80% dovuta proprio all'impennata dei prezzi delle materie prime energetiche, mette a rischio da qui ai primi sei mesi del 2023 circa 120.000 imprese del terziario di mercato e 370.000 posti di lavoro. Cerchiamo di capire qualcosa di più su questa situazione, su che cosa ci attende proprio per i prossimi mesi, avendo come ospite Mariano Bella, il direttore dell'ufficio studi di ConfCommercio. ConfCommercio, a cui do il benvenuto qui su Cusano Italia TV. Buonasera direttore. Buonasera, grazie per l'invito. Direttore, le cifre che emergono da questo quadro di ConfCommercio sono veramente drammatiche, ma adesso è il momento però eventualmente di agire in qualche modo. C'è effettivamente un'interlocuzione sia con il governo Draghi, sia eventualmente con le forze politiche che si stanno affrontando in campagna elettorale, oppure la campagna elettorale da questo punto di vista è un po' un ostacolo a qualsiasi tentativo. Io faccio l'analista, non faccio il polemista, poi devo tornare sul mio posto di lavoro, quindi non mi faccio dire cose che non posso dire. Dunque, fino a ieri, fino all'altro ieri, l'interlocuzione col governo è stata molto valida e proficua. Una volta tanto bisogna dire che la controparte istituzionale si è comportata molto bene, lo vediamo dai numeri. Da febbraio 2021 fino almeno alla metà di maggio 2022, l'Italia dal punto di vista economico ha ottenuto dei risultati eccezionali, anche nel confronto con i vent'anni precedenti. Noi siamo andati meglio quasi di tutti, anzi di tutti i grandi paesi dell'Europa, il 6,6% del PIL nel 2021, che nessuno di noi, sia su base nazionale che anche come istituzioni internazionali prevedeva. E anche i primi sei mesi del 2022, secondo i dati uffici, sono andati bene. Quindi il supporto che il governo ha fornito alle famiglie e alle imprese è stato un supporto proficuo. Dopodiché, da maggio la situazione è un po' cambiata, ma non è cambiata perché il governo ha smesso di supportarci. Credo che faranno un ulteriore decreto, diceva il sottosegretario Castello. Ma purtroppo con livelli dei costi energetici di questo genere non ci sono supporti che tengano. Bisogna capire un punto molto semplice. Il nostro paese in questo momento trasferisce potere d'acquisto dalle nostre tasche, dalle tasche dei poveri, dei ricchi, del governo, delle prossime generazioni, dei contribuenti. Comunque stiamo trasferendo potere d'acquisto degli italiani a qualcun altro, ai paesi esportatori, estrattori, produttori di materie prime, soprattutto energetiche. Lei prima faceva riferimento all'80%, guardi, il 50% basta prendere i comunicati dell'Istat e moltiplicare il tasso di variazione dei beni energetici, dei costi dei beni energetici per il loro peso è il 50%. Se ci mettiamo pure le materie prime non energetiche, l'inflazione di queste materie prime nel complesso è il 62%, se ci mettiamo gli effetti indiretti si arriva all'80%. Questo vuol dire che alla fine il nostro paese, tutto sommato, per gli shock che sta subendo, sta ancora reagendo bene, come abbiamo visto anche oggi dalla fiducia delle famiglie. Il problema è il futuro prossimo. Guardi, e noi quando abbiamo fatto questo aggiornamento, di cui lei correttamente parlava prima, dove stimiamo sulla base di vecchie elaborazioni delle imprese a rischio di 120 mila unità, io ho fatto fare le tabelle ai colleghi, per capire un po' di aggiornare questi costi dell'energia sulle nostre imprese e quando ho visto le tabelle che mi hanno dato, ho detto cari colleghi, qui secondo me c'è un errore perché sono numeri pazzeschi, li abbiamo ricontrollati, i numeri sono quelli. Quando lei dice giustamente che il prezzo del gas non è fuori controllo, è l'energia elettrica per un sistema complicato e ormai legato al prezzo del gas, questo forse è una cosa che si può cambiare nel futuro prossimo, però nei dieci anni scorsi ha funzionato bene, ha funzionato bene, quindi non è che siamo pazzi. Io quando ho visto queste tabelle, le abbiamo ricordate, io vedo che gli alberghi hanno degli incrementi che mediamente nel 2022 rispetto al 2021 possono essere tipo del triplo, cioè più di 200%, così i ristoranti, i bar, i negozi alimentari e i negozi non alimentari. Posso fare un esempio terra terra? Facciamo finta che i nostri settori, che non sono dei settori energivori, hanno un rapporto tra costi dell'energia e fatturato, diciamo i ricavi, solo del 3%, 3% e il resto sono, che ne sono, 92 altri costi, il costo del lavoro e con un margine lordo del 5%. Se questo costo dell'energia da 3 passa a 9, cioè più 200%, il margine a parità di altri costi diventa negativo. È questo che determina poi il rischio di 120.000 chiusure, cioè quando non c'è più convenienza economica a tenere aperta l'azienda, cioè io non posso fare il panettiere e perdere ogni giorno, che ne so, 150 euro sul pane che vendo. Mi conviene, non dico cancellarmi dalla camera di commercio, ma almeno tengo chiuso aspettando qualche ulteriore ristoro o tempi migliori. Ma questo che cosa vuol dire? Che avremo maggiore cassa integrazione, se non succede qualcosa di buono, e ora ne parliamo magari, avrò maggiore cassa integrazione, maggiore disoccupazione. Tant'è che tutti gli istituti nazionali e internazionali, quando dicono che il PIL nel nostro paese crescerà nella media del 2022 del 3%, che è un numero sempre molto elevato, diciamo, però. Sì, sì, le stime sono sempre in eccesso in questi casi. Ok, ma quando dicono del 3%, comunque stanno immaginando che siccome l'Istat ci dice che siamo cresciuti di oltre il 5% nel primo semestre, avremo un forte rallentamento, secondo me il rischio a recessione è elevatissimo, nella seconda parte dell'anno, quindi non è che siamo solo noi quelli di confomercio che lanciamo gli allarmi, perché noi anzi siamo ottimisti, come ho detto, cioè siamo in una situazione di salute, eccetera, eccetera, però le preoccupazioni sono oggettive. Non è possibile avere un prezzo del gas a cui c'è poco da fare, siamo comunque collegati di questo tenore di questi livelli. Questo è assolutamente inevitabile, però a questo punto per me è altrettanto inevitabile, visto uno scenario decisamente fosco, che è quello che ci troviamo davanti adesso, fare riferimento a quegli elementi positivi a cui lei prima accennava, direttore, perché ne abbiamo bisogno. Basteranno, noi ora stiamo entrando in una situazione di malattia, partendo però da un fisico abbastanza reattivo, cioè ci siamo comportati bene, però c'è poco da fare con questi livelli, noi dobbiamo mettere mano subito e siamo un po' sfortunati, perché le disgrazie non vengono mai sole. Sinceramente io non ho niente contro il fatto di andare a votare, anzi votare è un fatto bellissimo in una democrazia, è fondamentale andare a votare. Però in questo momento vedo che le forze politiche non parlano di cose eccezionalmente serie, tipo dobbiamo immaginare, dobbiamo raccontare alla cittadinanza che esiste una possibilità concreta di dover fare dei sacrifici da ottobre in poi, cioè il discorso del razionamento. È una possibilità, non dico che sia ineluttabile, però vogliamo dire ai cittadini che esiste un piano di emergenza per cui se le cose continuano così per i prossimi 20-25 giorni, noi dal primo ottobre dovremo da parte del governo sicuramente aumentare i crediti di imposta per le aziende, proseguire con gli aiuti come abbiamo fatto fino adesso. Dobbiamo insistere ancora di più in Europa per questo benedetto prezzo del gas che è una cosa complicatissima peraltro e poi dobbiamo anche immaginare a un piano di razionamento, blando, meno blando, ma lo dobbiamo prospettare già da adesso perché se io ho un anziano in casa, mio padre, mia madre, che sono anziano e so che tra un mese c'è la possibilità di avere il riscaldamento non a x gradi, ma a x gradi meno 2 perché c'è poco da fare, non posso riscaldarmi tanto perché non abbiamo le condizioni oggettive di importare quel gas che ci serve, io posso cominciare a attrezzarmi, glielo racconto, gli dico, ti metti le coperte, vieni a stare a casa mia che è più coibentata, eccetera, eccetera. Cioè la cittadinanza deve sapere a che cosa possiamo andare incontro. E io questo invece per motivi di consenso elettorale, visto che oggi in campagna elettorale si dice che con sezione non lo sento, ma vorrei sentirlo. No, diventa necessario anche perché, anche per sfuggire a quella trappola in cui purtroppo il nostro paese cade spesso dell'emergenza continua. In questo caso diciamo che i segnali sono molto ben evidenti già da mesi e quindi non vorrei, come auspica anche lei, che ci ritrovassimo ad autunno-inverno con un'emergenza caduta chissà come dall'alto quando invece appunto magari era piuttosto evidente fin da prima. Direttore, io la ringrazio davvero per questo suo intervento chiarificatore, perché poi veramente noi siamo sommersi dai numeri in questi giorni. Non se ne può più. Esattamente, esattamente. Bisogna fare un po' di chiarezza e un po' d'ordine. Lei ci ha aiutato a farlo. Benissimo. A presto. Grazie mille. Grazie. Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di ConfCommerce, è stato il nostro ospite. Speriamo effettivamente che quelli che sono stati gli avvisi che lui stesso qui ci ha consegnato nell'occasione di questo nostro OTG di approfondimento, vengano raccolti dalla politica. Vedremo effettivamente come andranno le cose da qui al 25 settembre, perché il tempo stringe e non è proprio il caso di aspettare le elezioni per poi intervenire su tutto questo. Da per Carlo Fabi il mio augurio di una buona serata.